Se fosse il ritornello di una vecchia canzone, sarebbe Non gioco più, me ne vado. In realtà è tutt'altro che un gioco la partita in corso tra il gruppo Toto e il governo, o i governi per meglio dire. Dopo scontri e incontri, colloqui emissive, minacce e promesse, l'ultimo capitolo, probabilmente solo in ordine di tempo, vede in primo piano la mossa di strada dei parchi SPA, che nei giorni scorsi, secondo quanto anticipato oggi dal Sole 24 Ore, avrebbe scritto ai Ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia per avviare le procedure per il recesso e la cessazione anticipata della concessione. La società, controllata dalla famiglia Toto, che ha in concessione l'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo e la A25 Torano-Pescara, avrebbe anche chiesto allo Stato un indennizzo quantificato in 2,4 miliardi per la risoluzione anticipata del contratto, la cui scadenza naturale sarebbe al 2030. Tra le voci che concorrono a determinare questa somma figurano la mancata remunerazione degli investimenti e i mancati incrementi tariffari, insomma l'aumento dei pedaggi, tante volte scongiurato. La decisione di strada dei parchi sarebbe maturata dopo la bocciatura dell'ennesimo piano economico e finanziario, redatto questa volta dal commissario ad acta Sergio Fiorentino, che doveva servire a mettere in sicurezza 280 chilometri di autostrada a rischio terremoti. Il gruppo Toto per ora ha scelto la strada del no comment, ma le prime reazioni dal mondo politico sono già arrivate, come pure potrebbe arrivare presto un'interrogazione parlamentare sul futuro dei lavori di messa in sicurezza, su quello dei lavoratori di strada dei parchi e sulla prossima gestione delle importantissime autostrade che collegano Lazio e Abruzzo. Non resta che seguire i prossimi sviluppi e vedere se, come scrive il Sole 24 Ore, il credito maturato dal gruppo Toto nei confronti dello Stato è di tale entità da aver respinto la società a lasciare la concessione. Grazie a tutti.